Ciao a tutti e benvenuti di nuovo sul mio canale. A quanto pare l'avventura di MeView, il ristorante più alto e panoramico di Milano, è giunta al termine. In precedenza la gestione fino al 2017 era a nome di unico, poi è passata in mano ad Artimondo che è la società che poi realizza l'Artigiana in Fiera e che anche nel menù propone le eccellenze italiane nei piatti. Il ristorante, che appunto era il più alto e panoramico di Milano, si trovava al ventesimo piano del World Joint Center, nella zona Portello, in via Achille Papa Trenta e era a 78 metri d'altezza. Non all'interno di un grattacielo, perché i grattacieli sono tali dai 100 metri in su, ma comunque era il più panoramico ed alto di tutta la città e al di là della qualità del menù e della presentazione si trattava comunque di un ristorante che proponeva una cucina, un fine dining come si dice in gergo, quindi appena lì sotto della cucina stellata, dove anche la rappresentazione dei piatti diciamo era compresa nell'esperienza, per chi ha avuto l'opportunità di provarlo, ad esempio c'era il piatto di carne presentato con una sorta di sigaro inserito all'interno di una scatola da cui usciva il fumo. Quindi comunque anche l'occhio e l'immagine del piatto era qualcosa di importante, ma l'aspetto diciamo che contraddistingueva questo ristorante era la vista panoramica, perché era 360 gradi su Milano, con in prima diciamo lo sguardo diretto a City Life, ai grattacieli di City Life, perché erano diciamo l'area, il quartiere più vicino, poi lo stadio di San Siro, in lontananza anche i grattacieli di Porta Nuova e persino il castello e il Duomo. Quindi una vista impareggiabile su Milano a quell'altezza, che a quanto pare non si vedrà più, perlomeno. Anche in passato appunto tra il cambio di gestione e altri problemi aveva chiuso per poi riaprire in quest'ultima veste. La speranza è che sia solo una rivederci, ma dato che non ci sono state neanche spiegazioni, ma appunto da un paio di settimane l'annuncio sul sito della fine di questa avventura, qualche dubbio sulla riapertura c'è. Ed è un vero peccato perché Milano, così che già non aveva ristoranti all'interno di grattacieli, agli ultimi piani di grattacieli, ma appunto in questo edificio che si avvicina a un grattacielo, ma per una ventina di metri non ci arriva, Milano rimane a secco. A differenza di Torino, che al momento ha il ristorante panoramico più alto d'Italia e nel grattacielo di Intesa San Paolo, non ho ragione, con un doppio piano a 167 metri di altezza, tra il 35esimo e il 37esimo piano, mentre Milano al momento non ha più niente. Avrebbe dovuto aprire un ristorante in cima a un grattacielo nella Torre Galfa, dopo la ristrutturazione, purtroppo però quando era, diciamo, era il momento di aprire il ristorante, è arrivato il covid, tutto è stato fermato e il ristorante sulla Torre Galfa non si è più fatto. In questo caso sarebbe stato un ristorante al trentesimo piano a 109 metri di altezza. Ma veniamo a quella che potrebbe essere, diciamo, la novità, nel senso che posto che al momento il Mi View non c'è più, quindi Milano non ha più ristoranti panoramici in edifici alti, quindi in questo caso era appunto al ventismo piano. La sorpresa dovrebbe arrivare invece dalla Torre Unipol, che ormai è in fase di ultimazione, si stanno realizzando, si stanno definendo e ultimando le parti interne e dovrebbe essere consegnata entro l'estate. È già stata, è già in fase di montaggio anche l'insegna Unipol, che appunto Unipol sai andrà a prendere, diciamo, la sede qua a Milano, in questo nuovo edificio soprannominato l'unido verticale per la sua forma e dovrebbe vedere all'ultimo piano uno Sky Restaurant circondato dal verde a circa 125 metri, perlomeno alla sommità dell'edificio 125, quindi insomma sicuramente sopra i 120 metri, quindi sarebbe il primo ristorante panoramico e in cima a un grattacielo a Milano. Diciamo sensibilmente al di sotto di quello di Torino, però già è un primo passo. Lo Sky Garden, questo diciamo ristorante in una serra giardino panoramica, dovrebbe in teoria inaugurare tra la fine di quest'anno e l'inizio dell'anno prossimo, anche se ancora non si sa la gestione e che tipo di ristorante sarà. Un altro ristorante panoramico poi arriverà invece nella Torre Velasca sotto, diciamo, la parte della struttura del grattacielo che sale come un fungo, che dovrebbe dare un'altra visuale panoramica sulla città. Anche di questo ancora non si sa quando verrà aperto, si sa solo che aprirà quello alla base della Torre entro la fine del 2024 e che è uno dei ristoranti Sushi Samba che esiste già a Dubai, New York e Londra. Quindi una brutta notizia per chi ama un certo tipo di ristorante e soprattutto anche per chi ama vedere i panorami dall'alto. Aspetteremo quindi di capire se sarà una chiusura definitiva o seppure o se ci sarà uno spiraglio per una sua riapertura. Come al solito se il video vi è piaciuto vi chiedo di mettere un like e di iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima.